Ad Andria ha presentato il libro del vicepresidente della Camera dei Deputati, onorevole Simone Baldelli, dal titolo Stai sereno, mica tanto, in cui attraverso una raccolta di vignette si offre al lettore un viaggio satirico illustrato che ripercorre i fatti più importanti della politica accaduti negli ultimi anni. Marilena Pastore. Presentato alla Biblioteca Comunale di Andria, Stai sereno, mica tanto, dell'onorevole di Forza Italia Simone Baldelli, vicepresidente della Camera dei Deputati, politico con la passione per la satira, le vignette e le imitazioni. Questo libro è un viaggio satirico che parte dal tentativo di Bersani di fare un governo dopo il voto del 2013 e arriva fino all'elezione di Sergio Mattarella al Quirinale. L'iniziativa andriese è del gruppo di Forza Italia Provincia Bat, un viaggio satirico negli ultimi fatti di questa Italia. Sì, infatti è una presentazione di un libro un po' particolare perché è una raccolta di vignette è una raccolta con un taglio estremamente satirico dove si ripercorrono dei momenti salienti degli ultimi anni della storia politica italiana partendo dalla famosa frase che Renzi disse a Letta Stai sereno fino ai giorni nostri parlando della elezione del presidente Mattarella all'Italia dei mondiali e altri aneddoti di palazzo con situazioni vario pinte che di solito il pubblico non è abituato ad ascoltare tramite i media e i giornali. La capacità dell'onorevole Baldelli, un vignettista di professione, ha collaborato con tante testate giornalistiche nazionali dove dà un taglio dove i politici fanno auto satira su loro stessi. È un qualcosa di divertente, particolare e vediamo proprio il libro che è una raccolta di vignette e di frasi celebri che i personaggi della politica nostrana, non solo di centrodestra ma anche di centrosinistra, hanno dato in questi anni. E come insegna la storia, la satira poi alla fine non è mai fine a se stessa. Qualcosa vuole insegnarla? Che cosa emerge? Sì, infatti forse a volte siamo abituati ad ascoltare trasmissioni televisive, sermoni oppure tavole rotonde che oggi la gente è un po' tra virgolette stufa e stanca. Forse attraverso la satira, attraverso una semplice risata si riescono a fare proprio quei concetti che quotidianamente ci dobbiamo scontrare con la realtà politica italiana che vediamo che negli ultimi mesi e negli ultimi tempi di sicuro non è semplice.